E' la musica, caro! Salve a tutti ragazzi, benvenuti qui con gli FG, Andrew, e nessun altro, e siamo qui su FNAF World con questa musica, cioè, Sì, e insomma, perché appunto, il gioco di Scott Cautor più famoso al mondo, che cazzo ho detto? Insomma, siamo qui con l'ultimo gioco, con l'ultimo gioco che è uscito di FNAF, che è FNAF World, Hard Mode, perché noi siamo stronzi, così è più bello. Allora, ci siamo, allora, Foxy, beh, vabbè, che tanto possiamo fare solo con voi per il momento, quindi... Wow, abbiamo volto a scelta, vai, vai, ok, ci siamo. So che potresti sentirti un po'... un po' strano, ma sembra qualcosa che sia successo qualcosa di strano oggi. Non sta bene, tutto non è strano qui ad Animatronica. Il villaggio animatronico, villagestronica, ci stiamo lavorando. Il punto è che è successo qualcosa di orribilmente sbagliato. Sono stata ritrovata un sacco di creature bizzarre, girare intorno verso la tardi, e sembravano molto simili a noi. Non siamo preparati con questo genere di situazioni. Qualcosa di brutto deve essere successo da qualche altra parte. Vai a vedere cosa... cerca qualcosa. Vai a vedere, insomma, vai a vedere cosa puoi trovare. Sta' attento comunque. Il nostro... il nostro auto-chipper cacciatore... Cosa? Ma tu non ci credi, vero? Cos'è? Ed ecco per... no. Eh... no. Qualcosa... qualcosa... Aspetta. Allora, una seria domanda. Che cazzo è successo? Salve, signore. Cos... che schifo sei! Benvenuto al... Ah, qui ci facciamo rinforzare. Difesa zero, questo dà dei rinforzi. Ma non abbiamo soldi. JJ. Perché uno non era... È vero. Due Balloon Boy rompono i coglioni. Quindi... Ecco, cos'è sta roba? Caffcake. Cos'è sto schifo? Posso fare... Mordi! Pizza Week. Che cos'è sto schifo? Cosa sto guardando? Cosa stiamo guardando? Vai, attacca. Cambia. Possiamo anche cambiare, è utile. Sì, ok. Mi sembra abbastanza carino. Ma anche bello drogato. No, non ho capito. Yeah. Non ho capito. Ancora, te. Ma... Muori. Muori. Aia. Muori. Cupcakes. Che cosa stiamo facendo? Perché? Perché questo mondo è così strano? Questo mondo non ha molto senso. No, abbiamo perso qualcuno. Rip. Rest in peace. Rest in pezzetti. È morto. Lo abbiamo perso per sempre. Poverino. Abbiamo... Abbiamo perso Bonnie. Di già. Ma che schifo. Ma quanto facciamo cagare? Non è per cagare. Ma anche te. Visto che... Si può uscire? Si può uscire? No. Ah no, è tornato. Ok. Vai. 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 No. No. No, 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 no. A parte che devo cliccare qua. Allora, vediamo un po'. E se, vabbè, prima di comprartelo. Plastra. Perché il mondo aveva bisogno di una versione giocattolo. Di una versione pupazzo. No. Motto abbastanza le palle. Vai. Mangiateli questo. Eh, però, chica, renditi utile. Cioè, non fai un cazzo. Lasciatelo dire. Non fai un cazzo. Aspetta, cambiamo. Cambiamo. Ma che cazzo era quello a fare? Cosa cazzo è quello a fare? No, è tipo un po'. Sembra tipo po'. Oh mio Dio. Oh mio Dio. No. Ciao. Ciao, ciao, ciao. È stato un piacere. Cupcakes. No, non proprio. Non è proprio come po'. Però, ehi, quando si sai di livello... È utile. Quanto sei brutto. E tu dovresti essere la versione pucciosa? No. Tu fai cagare. Mi è venuto ancora sono questi cosi. Ah, sono i power up. Quindi sono gli aiutanti. No. No. No, non ho capito. Continua a non capire, signore. Aspetta, andiamo da lui. Giochiamo. Ah, tutto qua. Ah, dovevamo prendere il cos... No, non ho capito. Sono scemo. C'è una chiave lì che ti serve. Ci serve una chiave lì. Eh, vedi, spara però. Sei una... Sei un... Sei un'ape utile. Perlomeno serve a qualcosa. Oh, quanto è brutto. Un nuovo sfidante... Fatto Foxy! Ciao, amico... Merda! Ci ha già... Ci ha già fottuto. Ma merda! Ma sei un b... Quanto cazzolina togli, amico mio! Sei bello incazzato! Ok, calmo, 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 calmo. Calmo, cal... Calma, calmati, calmati. Calmati, calmati, calmati. Noi non ti vogliamo fare del male. Merda! Mer... Attaccate! Cosa fate gli impalati? Forza! Dobbiamo fargli il culo! No, non attacca. Eh, sì... Eh... Eh... Siamo nella merda. Ok, è stordito. Vai! 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 Attaccate! Attaccate i miei schiavi! No! Stiamo morendo tutti molto male. Stiamo morendo malamente! Non riusciamo a buttarlo giù, ci sta facendo il culo di... Siamo fottuti. Siamo fottuti perché abbiamo da entrambi le parti... Non è che serve a tanto! Siamo fottuti! Che schifo è quello? Mi sa che è un boss... Mi sa che non dovevamo andare... È un po' presto, mi dicono, in sala. Ecco, abbiamo perso già uno. Merda! Microfono! Microfono! Vai! Vai! No, cazzo! Quelli non servono, non fanno niente! Eh... No. Sta morendo così a random. Vai, cambia, 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 cambia! Ti conviene usare l'oro. Merda, ma dai! Eh, effettivamente... Cambia di nuovo! Te lo consiglio, te lo consiglio. Però, ehi, sta morendo, sta morendo. Dai! Dai! Può andare bene! Abbiamo vinto... Dai! Abbiamo... Ma dai, veramente, mi fate... Mi state prendendo per il culo, con la petta! Con la pettina di merda! Oddio! Oddio! Eh, hanno bescovato... Hai trovato un nuovo chip! Cosa fanno i chip? Cazzo! Signora, quattro chip da attivare. Ah, danno la vita! No, ti rendono più forte, ok. Utile, utile. Ciao! Eh, uh... Uh, cosi che possono guarirsi! Ma io quello me lo piglio, guarda! Eh, vabbè, sì, eh, casi! Ok, vai, uno l'avevo speso! Vai, uno l'avevo speso! Vai, non c'è un'esistenza, non c'è un'esistenza, non c'è un'esistenza! Vai, vai, vai! Alla fine non è neanche... Non è neanche così impossibile! Dai, devi solo capire un po'... Tutto tuo, tutto tuo, vai, chica! Dai, è chica, è facile! È chica! È una stronzata! No, ti conveniva usare cupcake, vabbè! Pizza! Bravo, quello sì! Eh, di già! Stai calmo! Bravo, il jumpscare è utile! Il jumpscare è molto utile! Vai, bite! Vabbè, pizza! Cambia, bravo! Cupcake! No, i poppers non fanno niente! Mancis! Vai! Microfono! Eh, di già! Steso così! Cambia, 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 cambia! Cambia prima! Ah, quelli si attivano a tempo! Ma valla a capire! Valla, non me ne ero mica accorto! Sono stupido! Cos'è successo? Jumpscare! Vai! Vai! Dai! Dai! Non è il miglior momento per stare lì così! Come dei imbecilli! Jumpscare! Vai, cupcake! Bello il cupcake! Mangio, mangio! Gnam, gnam! Sì, vabbè, ma quanta vita c'hanno, sti bastardi! Poppers, di nuovo! Rifacciamo i poppers! Cupcake! Oh! Però questa volta ha vinto Mario! L'ammetto, sei stato più bravo a te stavolta! Abbiamo un nuovo... Oh! Si è aggiunto! Si è aggiunto! Togliamo uno debole, uno debole, uno debole, uno debole, uno debole... Togliamo te che non servis un cazzo, valla, vaffan... Bagno! È una stronzata te, sei una stronzata! Proviamo... Tanto è sempre una cica! O un'altra... O un'altra non fa differenza! Il formaggio fa danno! Ok! 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 Un giorno ci verrà spiegato... Calma, prova a cambiare! Testiamo l'altra cica! Mannaggia quanto sei brutta, figlia mia! Sludge! Cosa fa? Ah, ma fa anche bei danni! Eh! 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 Te la sai cavare, amica mia! Vabbè che prima ci stai facendo un mazzo così... Però di solito quando ti aggiunge qualcuno nel team... Di solito diventa l'improvviso una pippa... Da prima che non riusciva a batterlo... Eh... No, scusi... No, non puoi prenderla! Eh, pezzo di metallo... Toxic Bite! C'era il Toxic Bite! C'era il che potevi fare... È il... È il morso tossico! Sarebbe stata... PIZZA! Oh! Snap! Freddy, ciao! Penso di aver trovato un indizio di quello che sta succedendo... Guarda dietro di me! C'è questo albero che è distorto e glitchato! Cosa? Non lo sai come... Non lo sai... Non sai niente come... Proprio come me! Ma ti dirò che... C'è... Che questo è un posto sicuro! Un santuario! Qualunque cosa deve santuare possiamo sistemarla! Sarà un'avventura! Sì, mica no! Qualcosa di orribile deve essere assaggiuto... Deve essere assaggiuto dall'altra parte! Perché sta causando questo mondo... Sta fratturando questo mondo! Gli oggetti come questo albero di Terme si sono... Si stanno rompendo! Si sono rotti, vai! Ma penso che puoi usare queste fratture per raggiungere posti che non potevi raggiungere prima! Devi andare e cercare quella... Cos'è questo qui? Shadowfred... Ti mangerò la... Rassicurante! Ah, è quello l'albero glitchato! Comunque è bello rassicurante! Si può proprio dire che vediamo tutto! Abbiamo raggiunto il... Non si capisce un cazzo! Sto perdendo la vista! Comunque c'è un altro coso... Vai! Wither and Foxy! Sempre Foxy! Ma molto più... No! Non fa ridere! Non fa ridere! Io direi di approfittarne per concludere qui! Dove siamo finiti? Ma siamo sempre dove eravamo prima! Ma seriamente? Era tutta una trollata? No, adesso un attimo! Voglio provare io! Voglio provare una cosa! Mi fai provare quel mo... Oh! Oh! Veleno! Simplice for me! Mi piace! Veleno! Le avvelena! Anche me! Ti sei fatta valere! Complimenti, picciotta! Complimenti! Complimenti! Me piace! Per sicurezza salviamo 400 volte! Allora direi che quindi abbiamo concluso questo primo episodio di questo... FNAF World... Cose strane! Insomma, avete capito? Ehm... È strano! Sì, molto strano! Parecchio! Fa... Mi fa anche... Mi fa parecchio strano! Stavo per dire cagare! Però non è... Non è brutto! Però ti fa strano! Ti fa strano! È quel gioco che ti viene a dire cosa diavolo sta succedendo, però non ce la fai a smettere dopo! Quindi, allora... Io direi... Per il momento di concludere qui, diteci se volete magari altre episodi su questo... Su questo coso... Su questo coso strano! Perché so che ci sono migliaia di robe all'interno, nonostante sembri un mondo così semplice! Di solito è pieno di robe, sembra anche che ci sono migliaia di finali, tanto così! Fateci sapere cosa volete, cosa volete, scriveteci sotto nei commenti, spero che questo video vi sia piaciuto! Se non vi è piaciuto lasciate un... Mi piace! Se non vi è piaciuto lasciate un... Mi piace! Sto muovendo le mani a caso perché è divertente! Ehm... Se non... Se non siete iscritti... Iscrivetevi! E se non vi iscrivete... Sono grazie i vostri! Se non vi iscrivete... C'è... 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 Nightmare, Nightmare Foxy! Dice che prima ci ha fatto il culo, che farà il culo a voi! Ecco! C'è...